E' stato oggetto di molte critiche la decisione del governo di inserire nel DPCM, dedicato alle misure da rispettare nel periodo natalizio, anche il divieto di spostamento da un comune all'altro nei giorni del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio. In seguito alle polemiche, il premier Giuseppe Conte si è detto aperto a una riflessione in merito, ipotizzando una modifica del DPCM o un aggiornamento delle facche del governo in modo tale da estendere la necessità che giustificano gli spostamenti tra comuni. Cresce la tensione nella maggioranza dopo l'intervista rilasciata da Matteo Renzi al Paese. Lo scontro è sul Recovery Fund. Il leader di Italia Viva manda un vero e proprio ultimatum al governo e dice L'esecutivo in alcune cose ha fatto meglio che in altre, ma non si può accettare che in nome dell'emergenza, dieci mesi dopo il suo inizio, si arroghi tutti i poteri dello Stato per spendere questi 200 miliardi. Abbiamo rimosso Salvini per questo. Renzi poi dice di non essere il solo a pensarla così. Molti di quelli che in pubblico prendono le distanze da me, in privato riconoscono le nostre critiche e dicono che sono giuste e autentiche. Per questo spero che Conte si fermi. Dopo 13 trimestri consecutivi di calo, particolarmente accentuato nella prima metà del 2020, negli ultimi sei mesi dell'anno torna a crescere il numero di disoccupati, che si attesta a 2.546.000 unità, dato che registra un aumento di 202.000 in un anno, più 8,6%. Sono i dati dell'Istat riguardanti il mercato del lavoro relativi al terzo trimestre dell'anno. Tale incremento riguarda sia le persone in cerca di un primo impiego, sia chi ha precedenti esperienze. L'83% degli italiani desidera che l'Unione Europea ridistribuisca i fondi agricoli per favorire la transizione verso un sistema di allevamento senza gabbie. È quanto emerge da un sondaggio diffuso dalla coalizione italiana End the Cage Age, che esplora le attitudini dei cittadini europei e riguardo l'impiego di gabbie negli allevamenti dell'UE. Secondo il report, il 56% degli intervistati è convinto che l'Europa non stia facendo abbastanza per garantire il benessere degli animali in allevamento, mentre l'84% ritiene che l'utilizzo di gabbie sia crudele. L'indagine svolta tra settembre e ottobre 2020 è stata realizzata da YouGov e commissionata da Compassion in World Farming, Animal Equity, Wierptofen International, Human Society International Europe, WeMoveEurope e World Animal Protection, Netherlands.